Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nemissimo video, io sono MrTekle e oggi apriremo queste altre 5 bustine del calciatore Panini 2018-2019 Deluxe. Allora questo è l'undicesimo episodio ragazzi grazie per il supporto di questa serie, iniziamo abbiamo Jordan Veretout della Fiorendina, Emiliano Rigoni dell'Atalanta, Nicola Murru della Sampdoria, Calcio Regali, tre giocatori del Livorno e tutta la squadra dell'Inter. Andiamo avanti con un'altra bustina di questo pack opening, è impossibile di aprire, ah almeno un po' di soddisfazione, abbiamo Alessio Cragno del Cagliari, Sofian Klein-Kin del Chievo Verona, De Frel della Sampdoria, Calcio Regali, tre giocatori del Capri e tre giocatori del Palermo. Andiamo avanti... Abbiamo Bartos Veresischi della Sampdoria, Luca Siligardi del Parma, Tomas Ringon del Torichino, Calcio Regali, tutta la squadra del Pescara e Federico Santander, la carta speciale. Andiamo avanti sempre con la penultima bustina anche di questo altro pacco opening e abbiamo Francesco Vicari della Spallo, Felipe Caicedo della Lazio, Federico Chiesa della Fiorendina, Calcio Regali, tutta la squadra della Fiorendina appunto femminile e tutta la squadra della Las Verona femminile. Ok. Andiamo avanti con l'ultima bustina di oggi qui. E andiamo con l'ultima bustina. Io oggi andiamo Alex Ferrari del Asampdoria, Marco Capuano del Frosinone e Pepe Reina, molto bene del Milan, Calcio Regali, tre giocatori del Livorno, tre giocatori del Lecce. Allora ragazzi, anche questo altro pacco opening finisce qui, spero che vi sia piaciuto, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la camarellina e qui da MrT3 è tutto. Ciao ragazzi e alla prossima. Ciao! Ciao!